Perchè? Perchè? Che è successo? In c'è per sé si è dato a fuori? Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Au! Ma che c'è si è dato a fuori? Tu mi spieghi a cosa hai? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno? Sì, sì. C'è nessuno? Non c'è nessuno? Sì, non è nessuno? Non c'è nessuno? Au! Il figli è rossi che stai. L'espori è rossi? E' rossi? ah sicuramente quella di dietro specialmente quella di dietro specialmente grazie a tutti